eeeh guys qui siamo a milano daniele saluta siamo con il maestro la cava questo il pacco sempronio sempronio o semplione semplione sempronio mi sono confuso e salutiamo tutta l'italia che ci segue comunque questo l'arco della pace e qui abbiamo gli studi rai ecco adesso andiamo un attimo a fare un sopralluogo ok ciao 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 ciao